A questo momento, signore, signore, è che... Papà! Papà! Ehi! Grazie a tutti. 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 Ma che ne pensi di Ox e Figlio, per esempio? Ox e Figlio. Come ti sei? Ox e Figlio. Ox e Figlio. Sì, sì, suona proprio bene. Andiamo. Ehi, posso guidare io? Siamo soci alla pari, no? E poi, per la parte. E poi, per la parte.